scarsa nel braciola risultato 2 a 1 stolfo manzi manzi 2 a 1 2 a 1 cosa si deve fare un flash grazie andiamo da soria soria 2 a 1 per voi cosa si deve fare nel secondo tempo cosa si deve fare il secondo tempo di vai va benissimo grazie a bocca al lupo ci vediamo dopo per il braciola contro Scarsenal ciao ragazzi siamo qui alla fine della partita di soffertarsi Scarsenal contro Real braciola 5 a 3 di cittadino finale doppiette per Di Maio e Cassandro Cassandro partiamo da qui ma ci vediamo di tre dopo la giunta alla finestra e a spugni ce ne state anche quanti anni per la giunta non lo so che non c'erano stanchezza ma 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 senti a chi vuoi dedicare i due due? no vabbè la squadra ma c'è ma io passiamo avanti siete partiti un po' lenti abbiamo poi tutti cambiato cioè compagnie la formazione però alla fine siete riusciti a portare a casa a casa come giusto c'è lì abbiamo trovato tre punti non solo la passina si bellissimo il gol l'argeri de rosa si 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 l'argeri de rosa la vicina ha capito che deve stare a casa lui poi cerca e la casa il sacco allora cominciò fra lui è sposito e aire aire diciamo c'è una seconda settimana mi viene tutto è arrivato il gel si 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 a mancini a mancini a mancini c'è 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 c'è